Il benessere degli animali, curato con l'omeopatia, efficace alternativa alle cure veterinarie tradizionali, passa soprattutto dalla sperimentazione scientifica su modelli alternativi. Per supportare la ricerca in questo ambito, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Aleandri e la Scuola Superiore Internazionale di Medicina Veterinaria Omeopatica di Cortona hanno deciso di siglare un protocollo d'intesa che garantisca un'attività formativa e didattica destinata ai professionisti delle terapie complementari relative alla sanità del mondo animale. Si presenta il protocollo d'intesa con la Scuola di Cortona, quindi si presenta il nuovo corso triennale che partirà il 6 dicembre e poi si presenta anche l'attività del Centro di Medicina Integrata dal 2007 a oggi. Varie prove hanno validato l'efficacia dell'omeopatia veterinaria, hanno messo a punto dei nuovi sistemi di terapia, nuovi protocolli, anche utili in allevamento zootecnico. Aver trasferito la scuola presso la sezione dell'Istituto Zooprofilattico di Arezzo è importantissimo dal punto di vista scientifico perché la scuola ha bisogno di un terreno dove è possibile effettuare la pratica della ricerca scientifica e l'applicazione pratica del metodo. I dati stanno a dire che indubbiamente ci sono dei successi, soprattutto in allevamenti come quelli del suino, si stanno facendo dei passi in avanti.